Buonasera amici, sono proprio all'entrata principale del Parlamento europeo, oggi sono arrivato a Bruxelles, oggi ho avuto modo di muovermi in Commissione, oggi c'era la Commissione Affari Costituzionali, si parla ancora della revisione del famoso articolo 50 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, quello che prevede, ovvero prevede in maniera molto limitata il recesso dell'Unione Europea, quel famoso articolo 50 invocato dal Regno Unito e allora siccome è stato visto che praticamente è stato scritto non in maniera idonea, si cerca adesso di modificarlo, però la strada è molto lunga e poi domani e dopodomani, giovedì e venerdì si parlerà ancora di altre cose interessanti, ad esempio sulle criptovalute, sui criptoasset e insomma non mancherà occasione di sentirci sugli argomenti, però quello che mi duole è che ho visto a Roma quello che è successo e mi piange il cuore perché vedete la situazione è questa, questa gente disperata, poveracci, gli è stato tolto tutto e soprattutto si sono vista chiusa la propria attività, non per malagestio, non perché hanno gestito male, ma perché gli è stato ordinato e purtroppo i famosi eristori, a me non piace questa parola eristori, chiamemoli rimborsi, purtroppo sono avvenuti veramente in maniera estremamente modesta, è chiaro che poi dopo ci sono sempre infiltrati eccetera, ma il 99,9% bisogna rispettare la protesta di questa gente che veramente ha perso tutto, ha perso tutto per sé e per i propri figli, quindi bisogna ascoltarle e quando si vedono queste cose vuol dire che non funziona qualche cosa nel paese, quindi saremo sempre dalla parte di coloro i quali hanno lavorato una vita, magari ci sono delle attività che si tramandano dal padre, dal nonno e bisogna conservarle, anzi l'Italia è quella, è l'Italia che ci piace, che amiamo tanto e vogliamo mantenerla per noi, quindi quando si vedono poi quelle scene, vedo anche in televisione che viene enfatizzato il fatto che ci sono stati degli scontri, c'è sempre di mezzo qualcuno che poi sfrutta queste occasioni per fare casino, ma ripeto il 99,9% di quelle persone hanno tutto l'appoggio possibile e immaginabile, perché è gente che è disperata e quando c'è una gente disperata bisogna aiutarle, è un dovere aiutarle, non è una questione di sì o di no, ho sentito anche dei giornalisti, ah ma quelli sono delle persone che hanno evaso, ma come si permettono, quella è gente che è sempre stralavorato, con il sudore della propria fonte e si sono rimboccati le maniche e non hanno visto né orari né contro orari, hanno fatto anche debiti per poter avere un'attività e quindi bisogna nient'altro che stare in piedi e sull'attenti quando si parla di questa gente, per carità, io cercherò nel mio piccolissimo di fare tutto il possibile, perché da italiano ci tengo che la nostra italianità rimanga sempre forte, vi ringrazio, qui fa un freddo a Bruxelles che è una cosa che neanche vi immaginate, vi ringrazio ancora, adesso mi faccio, perché credo di meritarmelo, il mio bel sigaro toscano, almeno quello, vi ringrazio.